I primi di settembre sono stati tagliati gli alberi a fianco dello stadio di atletica per mettere in atto un progetto del comune di Arezzo per il riassetto idrico delle acque provenienti dalla collina di Castelsecco, ma alcuni cittadini nutrono perplessità. Sì, noi abbiamo delle perplessità sul progetto in generale, però su quello abbiamo bisogno di approfondire anche con dei tecnici a cui ci affidiamo. La grossa perplessità l'abbiamo avuta invece nello specifico per il taglio degli alberi, tanti, in un boschetto che fino a pochi giorni fa si trovava tra il campo di rugby e l'Arezzo Sport College. Le acque che verranno convogliate in un fosso, abbiamo visto il progetto, che partirà praticamente dal bicchieraia e arriverà fino al campo di baseball. I cittadini verranno ricevuti dall'assessore all'ambiente Sacchetti giovedì 19 settembre. Vogliamo incontrarlo per dire veramente la nostra su questo taglio che conferma anch'io, secondo me indiscriminato per tante opere pubbliche che servono realmente per la sicurezza e lo crediamo per la sicurezza insomma nel rischio idrogeologico visto il cambiamento climatico, però mi ci sembra assolutamente una contraddizione che vengano tagliate delle piante che sono l'unico modo un po' per arginare il cambiamento climatico. Grazie. 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 Grazie.